Siamo 1-0, però il Basile ha dimostrato di essere la squadra migliore in campo, nonostante come ha detto l'assenza, nonostante l'infortunio dell'ultima ora. Enrique, conclusione! E un capolavoro del brasiliano! 3-1 con il Zunico che, attenzione, ancora forse è troppo dire ci crede, ma sicuramente ha l'occasione per tentare. Qua bella sponda di Sadico, la conclusione di Enrique imparabile per Sommer. Si va a infilare proprio sotto il set, quindi 72esimo, Pedro Enrique. Trova il gol che riapre in qualche modo la partita, o almeno rende la partita un po' più interessante.